Signore e signori, sono il giudice amministrativo e presidente del Tribunale Municipale di Cleveland. È mio dovere informare quanti di voi debbano comparire davanti al giudice dei loro diritti fondamentali e delle procedure fondamentali che il giudice seguirà oggi relativamente alla trattazione delle relative cause. Si prega di ascoltare con attenzione, in quanto ciascuno di questi diritti potrebbe rivelarsi cruciale nella risoluzione della vostra situazione. In questa aula oggi, il giudice accoglierà le dichiarazioni di quanti di voi siano stati accusati di reati penali e o di infrazioni al codice della strada all'interno della città di Cleveland. Avete la facoltà di esprimere una delle tre dichiarazioni possibili. La prima è non colpevole, secondo la quale sussiste una totale ammissione della propria colpevolezza. La terza è non lo contendere, secondo la quale non sussiste ammissione di colpevolezza, ma si ammette la veridicità dei fatti contenuti nella citazione. Il vantaggio della dichiarazione di non lo contendere sta nel fatto che non potrà essere utilizzata contro di voi in alcun procedimento civile o penale futuro. Se oggi scegliete di pronunciare una dichiarazione di colpevole o non lo contendere, il funzionario del tribunale che giudicherà la vostra causa risolverà la questione applicando un'ammenda, nonché i costi del tribunale. Se scegliete di pronunciare una dichiarazione di non colpevole, la vostra causa sarà assegnata a caso a uno dei tredici giudici del Tribunale Municipale di Cleveland. Successivamente verrà fissata un'altra data di comparizione davanti al giudice al quale sono state assegnate una o più cause che riportano il vostro nome, al fine della prosecuzione del processo. Spetta al giudice il dovere di informare tutte le persone accusate di un reato di taluni diritti di cui godono. Pertanto, ognuno di voi imputati è con la presente comunicazione informato di essere titolare dei seguenti diritti sostanziali. Il diritto di conoscere e capire ciascun capo di accusa contro di voi. Il diritto alla presunzione di innocenza e il diritto a richiedere che l'accusa dimostri, esclusivamente con mezzi di prove, la vostra colpevolezza, oltre ogni ragionevole dubbio riguardo alle accuse presentate contro di voi, prima di poter essere condannati di alcun reato. Il diritto a un processo con giuria, in tutti i casi, eccetto quelli riguardanti violazioni di lieve entità, che devono essere giudicate dal giudice senza alcuna giuria. Anche qualora abbiate diritto a un processo con giuria, dovete comunque richiedere detto processo entro i tempi stabiliti nel regolamento. In alternativa, tale diritto decadrà. Tuttavia, anche qualora perdiate il diritto a un processo con giuria, potrete comunque richiedere un processo per il vostro caso. In tale eventualità, il vostro caso sarà giudicato dal giudice in assenza di giuria. Il diritto di essere rappresentati da un avvocato durante tutte le fasi di questo processo, anche nel caso in cui abbiate intenzione di pronunciare una dichiarazione di colpevole o non lo contendere. Il diritto di chiedere al giudice la nomina di un avvocato che vi rappresenti, soltanto se dovete far fronte alla possibile detenzione, e non potete permettervi di assumere un avvocato che vi rappresenti. Il diritto di confrontarvi con i testimoni della controparte e di richiedere il controinterrogatorio per tali testimoni. Il diritto di citare testimoni a vostro favore e intimare i testimoni riluttanti a comparire con citazione in giudizio, se necessario. Il diritto di testimoniare a vostro favore. Il diritto di non rispondere ed esercitare il vostro diritto costituzionale contro l'autoincriminazione. Qualora decidiate di esercitare tale diritto, nessuno, neppure il giudice o l'avvocato dell'accusa, potrà sindacare la vostra decisione al riguardo. Tuttavia, qualunque cosa diciate potrà essere usata contro di voi. Infine, il diritto alla determinazione di una cauzione. Inoltre, siete con la presente informati che qualsiasi condanna relativa a un'infrazione al codice della strada avvenuta con veicolo in movimento comporterà la registrazione della condanna all'ufficio della motorizzazione dell'Ohio e aggiungerà punti amministrativi al vostro registro relativo alla conduzione di veicoli. Se non siete cittadini degli Stati Uniti, siete altresì informati che ai sensi del diritto degli Stati Uniti una condanna per uno o più reati rispetto al quale pronunciate una dichiarazione di non colpevole o non lo contendere potrebbe comportare conseguenze di deportazione, di vieto di ingresso negli Stati Uniti o rifiuto della naturalizzazione. I diritti qui esposti appartengono a ogni convenuto che compare dinanzi a questo giudice e saranno tutelati oggi da questo giudice. Quando sentite il vostro nome, siete pregati di avvicinarvi al banco. Il funzionario del Tribunale esaminerà con voi la natura dell'accusa o delle accuse contro di voi e vi chiederà di pronunciare una delle dichiarazioni precedentemente citate nella sua comunicazione. Nel caso in cui decidiete di pronunciare una dichiarazione di colpevole o non lo contendere, sarete anche informati delle sanzioni massime associate a tale dichiarazione, qualora quest'ultima sia accolta dal giudice. Secondo il regolamento del Tribunale presente, non è consentito parlare durante la seduta del Tribunale. L'inosservanza di tale prescrizione potrebbe essere considerata oltraggio alla Corte. In tal caso, potreste ricevere un'ammenda fino a 250 dollari maggiorata dei costi del Tribunale e una sentenza di detenzione fino a 30 giorni per ogni violazione. È altresì disposto che tutti i telefoni cellulari siano spenti o che la suoneria sia disattivata. L'interruzione di tale procedimento causata da qualsiasi dispositivo al termine della presente comunicazione potrebbe comportare l'ammonimento del relativo proprietario con conseguente giudizio. Inoltre, è possibile che il dispositivo sia ritirato dal proprietario e non venga restituito. Grazie per la vostra attenzione e collaborazione. Nonostante la molle di lavoro prevista per oggi in sede di udienza, faremo il possibile per trattare ogni caso con rapidità, in conformità con le finalità della giustizia. Possiamo adesso procedere con la seduta del Tribunale. Grazie. Grazie. Grazie.